Abiti a Milano o a Palermo? Sei di Roma o di Torino? Te lo chiedo perché? Questo ha un'importante influenza nella realizzazione di un tuo preventivo. A noi diputatore 4.0 molto spesso viene chiesto un consiglio per la realizzazione di un preventivo. E poi leggiamo domande tipo... Quanto costa una posa? Quanto costa una levigatura? Questa non è una risposta semplice che possiamo dare. Perché tu non puoi basarti sul prezzo che fa un tuo collega di valio di Torino verso il tuo cliente. Devi basarti sui valori della tua azienda. Ogni azienda ha dei valori diversi ma allo stesso tempo uguali. Tu devi valutare quali sono i tuoi costi fissi e i tuoi costi variabili. E lì potrai ridigere un preventivo adeguato verso il tuo cliente e far la differenza. Ecco perché noi, diputatore 4.0, abbiamo pensato a un corso specifico su posatori e parchetisti, sui numeri, che ruota attorno a un'azienda. Venerdì 17 maggio facciamo un corso a Bologna che si chiamerà ProNum. Aspettiamo anche te!